Benvenuti in questo nuovo video, oggi nuovo video recensionemakeup.it E ho comprato diverse cose appunto che mi servono per fare dei cosmetici fatti a casa mia appunto in casa e soprattutto appunto dopo il corso di cosmetologia naturale ho comprato delle cose insomma che avevo finito o che sono molto difficili da trovare in commercio diciamo di persona e quindi l'ho comprato online Allora da Makeup.it ho comprato il 25 marzo e ho ricevuto l'ordine due minuti fa che è il 30 marzo quindi ci ha messo 5 giorni ad arrivare Allora partiamo subito dalle cose che ho acquistato Vado in ordine di come le leggo così vi dico anche quanto costavano Olio cosmetico di Kupuasu che è questo qua che è un po' piccolino però in realtà non avevo idea di quanto potevano essere 40 ml una volta aperto dura 6 mesi però quindi forse è meglio che sia piccino proprio perché in realtà guarda che mi serve solamente per fare una cosa che poi vi farò vedere e poi dal momento che sono lì è importante anche rispettare la scadenza Allora l'unica cosa che vorrei dire sapete che sto studiando anche cosmetologia generale e una regola ben precisa dell'Unione Europea dell'articolo 1223 è che i cosmetici devono avere la scritta per capire l'utilizzo nella lingua di destinazione Makeup.it mi ha venduto dei prodotti sapendo che li spediva in Italia e però appunto non è scritto in italiano quindi in realtà faccio fatica a capire da qui sicuramente posso andare sul sito però in realtà quello che vorrei dire è che quando io l'ho comprato era chiamato come olio cosmetico di Kupuasu ho pagato 3,52 euro comunque ben venga nel senso che sul sito la spiegazione c'è dei prodotti quindi posso andare a leggere sul sito non è quello un problema e sapete che alcuni burri addirittura mia professoressa che li acquista anche diciamo non qui perché sono difficili a trovare poi olio cosmetico di Murumuru che è questo qui anche l'olio cosmetico di Murumuru spesso si trova in alcuni cosmetici anche quindi a volte si sente sono sempre 40 ml dura sempre 6 mesi e l'ho pagato 3,73 euro poi dopodiché olio di Baobab questo qui sono aspettate ok allora 4,2022 30 ml questo è scritto in inglese e ci spiega anche temperature minime e massime l'ho pagato 6,01 euro poi olio essenziale di mandarino eccolo qui 100% mandarin oil qui ci sono le istruzioni fatemi vedere le istruzioni in che lingua sono sembra polacco eppure si chiama micap appunto io ho comprato su .t è polacco e c'è scritto anche metodi di applicazione eccetera ok c'è anche il foglietto faccio vedere l'olio che è questo qui parte da qui voglio vedere se anche gli altri partono da qui buon profumo comunque di mandarino ho chiuso bene non che ritrovi un po' con quegli oli essenziali questo era quello del mandarino ripeto cioè sono cose che ho appena studiato o perlomeno che mi sono appena state dette quindi sono immessa un po' così poi abbiamo l'olio di paciuli essential essential oil paciuli questo qui farò dei video tra virgolette precisi su perché li vado ad utilizzare ecco qua l'olio di paciuli che scade l'11 2023 ok quindi mi hanno attaccato sulle etichette poi abbiamo il burro visecorpo di babassu che è questo qua stavo leggendo le scadenze scusate intanto le controllo che è made in Poland mamma mia e questo l'ho pagato allora l'olio di paciuli 8,33 e invece il burro visecorpo di babassu 4,09 poi abbiamo l'olio essenziale di lime che è questo qui dov'è che è questo qui anche questo è scritto in polacco presumo poi ho preso l'olio essenziale di cannella allora l'olio essenziale di lime 1,84 euro l'olio essenziale di cannella 3,23 euro eccolo qui poi ho preso l'olio essenziale di zenzero che sarà questo immagino si ginge che ho pagato 18,71 euro controllo le scadenze scusate le controllo dopo perché non ho capito dove sta scritto poi ho preso l'olio frutto della passione che è il maracuja 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 questo qui questo qua invece la pompetta ce l'ha giusta ok e poi ho preso l'olio essenziale di pino silvestre che poi vi spiego perché andrò ad utilizzarlo ovviamente è stato anche insegnato quali li posso mettere al caldo fargli fare gli sbalzi di temperatura oppure no quindi tutto questo ve lo spiegherò in un altro video eccolo qui allora Makeup.tt io compro da sempre mi ci trovo da sempre benissimo l'unica cosa appunto che mi ha lasciato perplessa è il fatto ma magari sono io che sono ignorante che le scritte siano tutte in polacco in realtà perché il regolamento 1223 del 2009 dice che il prodotto deve essere scritto nella lingua di destinazione quindi di chi li compra perché in realtà le persone devono capire come utilizzarlo altrimenti potrebbe non essere sicuro perché il prodotto è stato diciamo approvato è stato approvato il suo pif quindi il suo file di informazioni tra virgolette segrete che però contiene anche il modo di utilizzo ed è stato approvato perché va utilizzato in una determinata maniera questo è tutto mando un bacio mi informerò e vi farò sapere ciao